Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate il hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E ringraziamo comunque Loot, che è il programma che abbiamo utilizzato spesso, come avete visto, in live Che mi permetterà di fare questo shop, che giustamente sarebbe quello dei 70.000 Non lo faccio grande come l'altra volta perché era molto grande Ma andiamo comunque a prenderci l'offerta del pacchetto livello 50 a 10,99€ che vale 3 volte tanto 2 megacasse, 100 monete, così abbiamo comunque le gemmine da parte E 2000 monete che mi serviranno oggi per andare a fare una bellissima cosa Qui c'è la musicoterapia ragazzi, perché con 2000 monete potremo andare a prendere finalmente la nostra prima star power del canale Mamma mia ragazzi, ma io vado immediatamente a prendermi questo pacchetto livello 50 Grazie al vostro contributo, grazie ai messaggi a tutti schermo Loot Siamo riusciti a fare uno shop che ci permetterà di prendere sia la nuova brawler rosa Che sia la possibilità di trovare un bel leggendario perché adesso andiamo ad aprire anche le due casse che arriveranno grandi E in più a prenderci musicoterapia, quindi la nostra prima star power Quindi grazie a tutta la community ragazzi Se avete partecipato anche voi mandando qualche volta nelle live i messaggi Loot Hashtag grazie perché giustamente avete contribuito Vai, 100 gemme, 2000 monete La prima cassa Andiamoci ad aprire Soldi Punti energia Frank Il primo Punti per mortis Eugenio 5 ticket Un per 200 E altre 20 gemme Wow E' quasi ottimo Apriamo la seconda Ed ultima cassa Soldini tantissimi Boh più 15 Secca più 21 Pam più 40 Tara più 42 Mortis più 72 Altri 6 ticket E altre 8 gemme ragazzi Quindi In tutto Tanto mi invitate come al solito da tutti i vizi Vado a levare gli inviti perché sono mi invitato in tutti i modi Abbiamo 142 gemme da parte Quindi possiamo prendere tranquillamente il nostro brawler nuovo appena arriva Abbiamo le 2000 monete con cui andremo immediatamente a comprarci l'abilità Prima abilità stellare del nostro account musicoterapia Wow Quindi abbiamo il nostro fantastico pocio Eccolo qua Livello 10 GG E questo tutto grazie alla community E ai messaggi loot che avete mandato per tutto il mese passato Durante le live Mi raccomando tranquilli le live ritorneranno Adesso è un periodo di festa quindi molto spesso la sera non ci sono Ma ci saranno ragazzi Tranquilli Ok quindi io direi a questo punto Avendo preso le casse Avendo fatto tutto il bel figaggine Bel chest opening Avendo anche tanti ticket Direi a questo punto di andare a fare qualche partita Proprio col nostro pocio masterato Vediamo quanto possa essere una scarsità Anche con la star power ragazzi Allora la star power giustamente dice che quando colpite i vostri compagni vengono curati di 500 E questo è buono Assolutamente Ti è curato Posso curare i compagni Ti è curato No è OP però eh Però l'altro si è fatto ammazzare come uno scemo Devo dirlo Ok Ah ok giustamente io non posso essermi curato da solo Ok Con l'era quasi morto Anzi no è morto in verità Aia Ok morduk e nabbo come sempre Tanto per cambiare Non è che E cambia la situazione Con la star power Però Ho dei compagni che stanno facendo un ottimo lavoro Allora questo lo eliminiamo Questo lo cerchiamo di curare perché è il nostro compagno Adesso attaccandolo tiriamo le cure quindi GG Non ci andate però Niente guarda che scemo Ragazzi abbiamo un compagno di squadra Abbastanza nabbo Che io curerei Però 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 Possiamo dargli una grande zampa La star power di questo personaggio è mastodontica Devo dire Mi piace però mi devo prima cura io E poi Magari curiamo tutti Olè Vienici Proprio qua davanti Mamma Mamma La cattiveria Ok no L'ha preso L'ha preso L'ha preso Dai no Si è fatto fregare come un nabbo Vabbè diciamo che è ancora equilibrata la partita Ancora si può fare qualcosa E mo addirittura Volevi ammazzarmi così Sei certo di quello che stavi dicendo? Ok devo dire che la battaglia è molto intensa E ci piace anche perché il nostro avversario non ha La star power Ok però mi devo anche un attimo cura io Prima di continuare l'assedio Ok questa cosa è andata ottima Oserei dire Ok Siamo in vantaggio coppe Cerchiamo di curarli Attaccando in pratica Oh Questa cosa è stupenda E voilà Voilà Si però non ci andate prego Eh ci è andato Ah ci è andato perché giustamente stavamo A perdere coppe Oh Cavolo Mamma mia No la star power raga è qualcosa di immondo Dai dai no non può essere È troppo grande No Aiuto Ok Mi sono salvato 21 a 0 Ma stiamo scherzando E io sti tizi me li riporto con me ragazzi Assolutamente Allora speriamo che dall'altra parte Non c'ha la star power il pocio Mordo che con la star power Mamma mia Peso pesissimo Non ce l'ha Non ce l'ha Ah io ho sbagliato io però qua eh Lo a me Ah non l'ho curato Uh Ok diciamo che ho sbagliato un po' l'azione Però Ho curato il mio compagno Assolutamente Eeeh Quello là c'ha la Ah Ho fatto lo sbaglio della vita Sono andato in avanti Non dovevo adesso Eh non c'ho la cura pronta Niente non l'ho preso Ho pure sbagliato Porca zozza Devo stare più attento Anche perchè adesso Stando attento pure ad attaccare i miei compagni Per curarli Rischio di sbagliare molto di più Ok c'è una certa differenza Si sente Però No lascia lì in faccia Così nel cattiverio eh Allora questo dovrebbe morire Perfetto No Allora Per sbaglio Diciamo che In tempo in tempo Ho curato il mio compagno Quindi possiamo ancora Fare qualcosa Ok Allora Cerco di caricare la mia No Si è fatta ammazzata No non è vero Anzi Anzi Provo il contrario Allora In pratica Con la star power di Bocio Riesco a far diventare Mio team immortale E anche se Stama rischia male eh Stama rischia male L'abbiamo vinta Appelo Ci piace Oh la star power Non fa differenza No Per niente Ma vada Ma non me lo fate dire Per favore Non mi fate parlare Gentilmente Cioè la star power Non fa differenza Fa una differenza Enorme Enorme Oh oh Mamma mia L'ho salvato con la curetta Da 500 con l'attacco Questa cosa è stupenda Che allora È fullato Poteva pure non attacca Se voleva No ho sbagliato Io non mi sono curato Un tempo con la E Peccato 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 Stavo in un ottimo mood Allora Piglialo Piglialo No ho curato Quello vicino a me E non la scelli Ma per morire io Morto Allora Non so bene Che sta facendo la tara Cioè la sua azione È andata benissimo Perché gli è andata bene Sperando che adesso Non ci muore O perché non lo grabba Ok no Non lo grabba Questa cosa è molto buona Però Il mio compagno Potrebbe rimetterci Perché sto troppo lontano Quindi non posso neanche curarlo Ok Ottima situazione In realtà La gemma La dovrei prendere io Ma Non sono potuto andare in avanti Ok Questo c'è more Ciao Lo dico No No Non andare a dare fastidio ai miei compagni Ecco appunto Ciao Ciao Questa è un'altra vinta Oggi tutte vinte Dai No No Lo sbaglio della vita Sto a fare io Perfetto Mamma mia Altra vittoria Ma io Ma contenterei così Sai che ve dico Ne faccio un'altra Non mi frega niente Mi dispia Ma Morduk Star powerato Non vede l'ora di fare botte Lo smolcio sta fermo No dai Dai Avete giocato bene fino a Momo Che fai Fk Dai no no Cattiva persona che sei Allora No è tornato Perfetto Allora vorrei curare Quel mio compagno Ok L'ho curato di un pochino Allora diciamo che Oh no no Scherza Aiuto Che volevi fare No dai l'avevo ucciso Però che sta facendo Lo smolch Lo smolch Ce la viene a dare una mano Ma perché Johnny Fa così indifensiva A me mi preoccupa Più Johnny che sta indifensiva Che gli altri Forse non sbaglia Da un punto di vista Però Boh No è questo Cazzarola Ci hanno fregato Non ci ho fatto caso io Non ho supportato In modo adeguato No Non l'ho curato Ma porca zozza Bruttasi tu No Ci stanno a massacrare Che stanno a massacrare Vabbè uno dovevamo perderla Che diamine Vabbè vabbè Che fai vinci tutto E non si può È bravo Il loro Dynamite Devo ammettere E niente Sta qua E la prende Eccolo Sta qui Via 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 Mannaggia Tara Tara Su Uccidilo Uccidilo Sta lì Quello Quello Bella Bella Recupera Però il problema È quello Sempre lì Olle Allora io ci rischio Oh Vai Vai così No 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 Aspetta Vai così è una parola grossa Perché Ok La nostra squadra È un tantino in vantaggio Per adesso Ah io ci muoio Tanto non c'ho gemme Perfetto Dai vinciamo così Dice il bull Dice il bull Eh ah Fuggi Oh Asaltarlo giusto un tempo Altra vittoria Allora Mordughino si può ritenere Molto Soddisfatto La star power Cambia Definitivamente Il gioco Mi apro Anche questa cassa Giusto per divertirci E wow 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 Arriviamo a 300 like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se è nuovi Lasciate il hashtag Browstars Qua sotto i commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video 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 Ciao